Bentornati a Trame Raccontate Male in attesa della nuova produzione scaligera, raccontiamo male l'ultima opera di Giacomo Puccini. La storia narra in sostanza la vicenda di un appassionato di enigmistica che si innamora perdutamente, ma soprattutto inspiegabilmente, della donna più frigida che abbia mai calcato un palcoscenico d'opera. Ma non basta, la principessa Turandot è anche un monumento vivente all'antipatia e come Obi colleziona le teste dei suoi pretendenti, la donna perfetta da sposare direi. Trama. In una Cina stereotipata come la tirchieria degli scozzesi vive l'algida principessa Turandot. Non si capisce per quale motivo tutti i principi d'Oriente la desiderano e la vogliono sposare e lei che di concedersi non ha nessuna intenzione si inventa un tranello. Per poterla sposare dovranno risolvere tre enigmi che non sarebbe capace di risolvere neanche Barte Zaghi. Regolarmente tutti falliscono e lei li fa decapitare, squartare, impalare, spellare e impiccare in tante fantasiose maniere. Il boi infatti è perennemente a lavoro e taglia più capocce di Mastro Titta. In città giunge il coraggioso, quanto volubile, Calaf, principe decaduto di un qualunque stato orientale immaginario. Siccome Pechino è piccola, Calaf ritrova il padre Timur, che aveva perso di vista dopo che erano stati detronizzati. Timur, vecchio e cieco, è accompagnato dalla schiava Liu, che si è presa cura di lui. Liu è perdutamente innamorata di Calaf. E perché? Perché un giorno di anni prima, lui, udite udite, le aveva sorriso. Io questi uomini che illudono le donne... Mentre sono in città, va in scena lo spettacolo preferito da Turandot. La decapitazione dell'ennesimo spasimante che ha fallito i tre indovinelli. Tutti chiedono pietà per la giovane vita, ma Turandot la pietà non sa neanche dove sia di casa. E fa trasformare Dalboia l'ennesima testa coronata in una testa decapitata. Oh, e qui dobbiamo veramente ammirare la proverbiale flemma orientale. Perché Turandot continua a uccidere principi asiatici come se fossero mosche. E nessuno pensa di muovere le guerre. Ma neanche una sanzione dell'ONU, un embargo, niente. La prendono tutti con filosofia. Calaf, colpito dalla crudeltà di Turandot, la maledice e subito se ne innamora. Fermi tutti. Facciamo un'idea. Facciamoli scopare. Così. De bot. Senza senso. Decire quindi di partecipare a questa sorta di concorso per poterla sposare. A nulla servono le suppliche di suo padre e di Liu. Calaf non vuole sentire ragioni e si prenota per partecipare al quiz. Rischiando quindi di diventare cliente del Boia. Che nel frattempo soffre di tendinite per l'eccessivo lavoro con le mani. Era successo anche a me da ragazzo, ma per altre ragioni. Perché suonavo troppo. Entra in scena il padre di Turandot, l'imperatore, a cui i sudditi augurano diecimila anni di vita. E a giudicare dalle sembianze non manca molto. Anzi, questo ci pone un dubbio esistenziale. Ma a quanti anni l'imperatore ha avuto Turandot? Perché o l'imperatore è veramente un portente di virilità, oppure forse Turandot non ce la racconta giusta sugli anni che ha. Calaf si sottopone agli indovinelli e non si sa come. Non è mica che ha qualche libretto, qualche cosa. Cos'è che ha nascosto lì? Li risolve uno dopo l'altro. Turandot è disperata perché si rende conto che Calaf ha vinto e che deve solo passare la cassa a riscuotere. Comincia allora a fregnare come una duedicenne col menarca. E si rifiuta di tenere fede alla parola data. Va quindi dal padre, l'imperatore, e lo scongiura di aiutarla a non finire tra le braccia del vincitore. Ma il padre la mette di fronte alle sue responsabilità. Turandot allora non sa più a chi rivolgersi. Dillo alla mamma. Dillo all'avvocato. E allora i librettisti tirano fuori dal cilindro il colpo di genio. Calaf, il cui nome è ignoto a tutti, dice a Turandot che se lei riuscirà a scoprire il suo nome prima dell'alba, lui non solo non la sposerà, ma andrà a rendezvous col boia. Allora sei deficiente! Dillo, sono deficiente, lo so! Ma perché? Spiegatemi perché uno dovrebbe fare una pirlata di queste dimensioni. Dunque sono, finchio e finito. Ma non... Ma non è sua... Ah! Ma non basta! L'editto era chiarissimo. Per poter partecipare agli indovinelli, bisognava essere di sangue regio. Perché Turandot è anche classista. Pensò se finiva sposata con un metalmeccanico appassionato di enigmistica. E quindi io mi chiedo, ma Calaf come ha fatto a partecipare senza dire chi era? Cioè nessuno gli ha chiesto una carta d'identità, un'impronta digitale, un face ID? Nessuno. Beh, allora potevo partecipare anch'io, mi chiamo anche loro. Turandot vede una vaga via d'uscita. Sguinzaglia quindi gli sgherri perché scoprano il nome di Calaf. Prima dell'alba. Se non ci riusciranno, lei ucciderà tutti. Ma tutti, eh? Cioè, commercialisti, correri di Amazon, testimoni di Geova. Tutti. Tutta la città è quindi mobilitata per scoprire il segreto. Anche i tre ministri imperiali qui, qua e qua fanno del loro meglio e cercano di convincere Calaf a rivelare loro il suo nome. Ora, va bene tutto. Ma se lui glielo dicesse, loro lo andrebbero a riferire a Turandot e Calaf non solo non la sposerebbe, dopo averla tanto desiderata, ma finirebbe immediatamente sul patibolo. Quindi, cari Adami e Simoni, i librettisti, mi spiegate perché mai Calaf dovrebbe rivelare il suo nome? È vero che non ci pare un fulmine di intelligenza, come spesso capita nei tenuli dell'opera. Ma autolisionista no. Com'è? Come non è? Qualcuno ritiene che Liu, quella schiava che si era fatto il film di lei, di Calaf, e Timur conoscano Calaf. Per evitare che se la prendano con Timur, Liu dice di conoscere il nome di Calaf, ma che non intende rivelarlo. La tortura è servita. Liu muore senza tradire Calaf. Calaf è sconvolto dalla morte di Liu, così sconvolto e così arrabbiato che in 27 secondi netti, record mondiale di elaborazione del lutto, gli passa tutto e va da Turandot per riscuotere ciò che gli spetta. Tira e molla, lui gli dice il suo nome, e lei che potrebbe a questo punto mandarla sul patibolo, se ne scopre improvvisamente innamorata. Vissero per sempre felici e contenti. Liu un po' di meno. Ora, se volete che facciamo altre trame raccontate male, dovete condividere questo video con l'intero globo terraqueo. Altrimenti vi sottoporrò a tre indovinelli e se non li indovinerete non succederà niente. Alla prossima!